Negli anni 90, il calcio italiano, era considerato il campionato più forte al mondo. Il club dell'Inter Milan era una delle squadre che possedeva molti giocatori di calcio di grande talento. Nel 1998, il club dell'Inter Milan annunciò l'acquisto della leggenda italiana Roberto Baggio. Come si sa, Baggio indossava sempre la maglia numero 10 ovunque andasse. In quel momento, la leggenda brasiliana Ronaldo Nazario, noto come Ronaldo il fenomeno, indossava la maglia numero 10 con l'Inter. Quando Baggio arrivò all'Inter, Ronaldo decise di cedere la maglia a Baggio come segno di apprezzamento e rispetto per questa leggenda. Vedendo questa modestia tra le leggende, Zamorano decise di fare lo stesso e rinunciò alla maglia numero 9 a favore di Ronaldo. Chiese alla dirigenza dell'Inter Milan una richiesta molto strana, stampare una maglia con il numero 1 più 8, che equivale al numero 9. Così Zamorano indossò la maglia più strana nella storia del calcio. 6 minutirico 5 minuti Indigenous Carregat 12 minuti 15 minuti